qui ho 200 grammi di cioccolato ora lo andiamo a sciogliere a bagnomaria o nel microonde ecco qui il nostro cioccolato sciolto aggiungiamo 100 grammi di burro sciolto all'interno del cioccolato aggiungiamo 110 grammi di zucchero aggiungiamo un uovo alla volta aggiungiamo il successivo solo quando il primo sarà completamente amalgamato all'impasto 50 grammi di farina imburriamo e spolveriamo di cacao i nostri stampini versiamo il composto nel nostro pirottino cercando di lasciare un centimetro di spazio dal bordo sbattiamo i nostri soufflé in questo modo prendiamo un foglio di carta stagnola e chiudiamo i nostri qui i nostri soufflé ora li andiamo a mettere nel freezer per almeno una trentina di minuti quelli che cucineremo dopodiché li usciremo dal freezer e li cuoceremo quelli che invece non ci serviranno li possiamo lasciare nel freezer ecco qui i nostri soufflé appena usciti dal congelatore e ora sono pronti per essere cotti ed ora possiamo infornare i nostri soufflé congelati a 200 gradi per circa 16 minuti una volta intiepiditi mettiamoli di testa in giù ed ecco qui il nostro soufflé zucchero a velo ed eccolo qui pronto per essere servito e gustato direi perfetto 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 sperata passato grazie per la vostra edizione Grazie a tutti.